Ti è mai ricapitato di andare a vedere un film in sala e sentirti come quella volta? Come la prima volta? Beh, mi è capitato per esempio quando mi sono trasferita a New York, la prima volta che sono andata al cinema lì, ero in fibrillazione, non so, forse perché era tutto nuovo, quindi sì, forse quello è stato un momento, forse non così tanto magari come la primissima volta in assoluto, però, sai no, anche l'ebbrezza di stare vedendo un film in un'altra lingua con persone che, boh, non so, chissà che universi appartengono rispetto al tuo, da dove vengono, quindi per me l'esperienza alla sala è una cosa forte comunque. Ok, perfetto. Ciao Lucrezia, benvenuta all'Arte Settima Suite, ringraziamo l'Hotel Regis per averci fornito questa bellissima stanza, siamo qui all'Arte Settima Fest, per l'esattezza il fuori, l'Arte Settima Fest ho detto no, volevo dire il Roma Film Fest. È un po' autoreferenziale qua in realtà. Assomiglia molto all'Arte Settima Fest, però c'è un po' più di oro. Il fuori fest del Roma Film Festival, come stai? Ciao, grazie, sto bene, un po' stanca, devo dire, però bene, sono contenta di fare due chiacchiere con voi. E niente, ieri stavamo un po' chiacchierando io e Francesco su come impostare questa chiacchierata, su di cosa parlare, e avevamo pensato di partire con delle domande super easy sulla tua esperienza da spettatrice del cinema, e quindi la prima domanda che gli vogliamo fare, facciamo, qual è il primo film che ti ricordi di aver visto al cinema? Se te lo ricordi, ognuno poi... Tu qual è il tuo primo film, te lo ricordi? Ma probabilmente Shrek, non sono intellettuale in questo film. Io ho la carica dei 101 a film. Bellissimo, io avevo un Dalmat da piccolo, era il mio cartone animato preferito. E ti ricordi che tipo di... Di esperienza. Sì, come l'hai vissuta, una novità. Ma mi ricordo che ero emozionata, mi ricordo che è stato un pomeriggio molto emozionante, che prima di andare, un po' come la prima volta che ho preso l'aereo, no? C'avevo questa attesa di andare al cinema. Mi pare, sì, credo sia stato quello il primo film, che poi era il cartone fatto a film, no? Sì, il live action. È il live action, sì. E quindi, insomma, questo. Ed è stata un'esperienza che ti è rimasta, che puoi paragonare, diciamo, a altre esperienze cinematografiche. Ti è mai ricapitato di andare a vedere un film in sala e sentirti come quella volta? Come la prima volta? Beh, mi è capitato, per esempio, quando mi sono trasferita a New York, la prima volta che sono andata al cinema lì, ero in fibrillazione, non so, forse perché era tutto nuovo. Quindi sì, forse quello è stato un momento, forse non così tanto magari come la primissima volta in assoluto, però, sai, no, anche l'ebbrezza di stare vedendo un film in un'altra lingua, con persone che, boh, non so, chissà che universi appartengono rispetto al tuo, da dove vengono. Quindi, per me l'esperienza della sala è una cosa forte comunque. È che diventa come un'esperienza sensoriale, diventa un viaggiare su altri mondi, se vogliamo. Per me sì, cioè io sono anche una spettatrice rumorosa, nel senso che se devo ridere rido, non mi censuro, no? Quindi effettivamente sento l'energia che c'è in sala e se c'è qualcuno che disturba mi incazza, mi arrabbia moltissimo. No, sì, ma anche a livello di ciò che ricevi dal mondo che stai guardando, dal mondo cinematografico, diciamo, con cui ti stai interfacciando. Cioè, un'altra domanda che ce l'avevamo, diciamo, prefissati io e Giovanni riguarda proprio questo. Tu, in quanto spettatrice, prima che attrice, ovviamente anche attrice, ma prima di tutto spettatrice, in che mondo che hai visitato oppure che hai immaginato ti piacerebbe vivere, ti piacerebbe lavorare, in che mondo cinematografico? Parlo proprio, puoi anche fare nomi di registi di film, di che tipo di cinema ti piacerebbe abitare? Tipo di universi, come il Marvel Universe, oppure... Non per forza, diciamo. Anche Goodfellas di Scorsese, se vuoi, puoi dire. Wow, questo apre tutta una serie di possibilità, eccitantissime. Oddio, non lo so, ci dovrei pensare, ragazzi. No, Marvel forse no, non è il mio... Cioè, se ti proponessero di fare Wonder Woman, tu accetteresti? Beh, vabbè, sì, diciamo, è una cosa che non mi farebbe schifo, siamo onesti. Però non è il mio sogno, cioè, nel senso, forse non è l'immaginario che sento più vicino a me. Sono andata... l'ultima volta che ho visto Ostlund... Ah, ho detto qualcosa di male. No, no, è una cosa bellissima. Eh, però... ecco, lì, per esempio, ho pensato... Cioè, qua, c'è un... così tanta carne al fuoco che proprio ti senti... Già da spettatrice mi sono sentita proprio investita dalla testa ai piedi, no? E quindi è una cosa che... Ho detto, magari... Ecco, quindi questo sì, ecco, Ostlund, per esempio, è un regista che mi piacerebbe frequentare. Forse è una cosa impossibile, però... Parliamo di Triangle of Sadness nello specifico, vero? Sì, ovviamente, Triangle of Sadness è l'ultimo che ho visto, già dal trailer, insomma, aspettavo da tantissimo tempo, ma anche forza maggiore... Insomma, tutti quelli che ho visto, suoi, mi hanno lasciato un po' senza fiato. Senza fiato. Erebbe possibile un Triangle of Sadness in Italia, secondo te? Se lo fa lui? No, secondo te, però... Se lo fa lui, dico. Ah, se lo fa lui? No, anche se non lo fa lui, diciamo. E non lo so, perché no, io so... Ma perché no, ragazzi, perché no? Prima ho sentito il panel, avete fatto, diciamo, conversazioni anche molto interessanti sul tessuto del cinema in questo momento in Italia. Volendo tornare un attimo indietro, tu hai, se non sbaglio, il tuo primo film in cui sei apparsa, è quello di Michele Placido, Il Grande Sogno. Allora, Il Grande Sogno è stata un'esperienza che ho fatto da allieva, attrice della Silvio D'Amico, l'accademia che ho frequentato, e Michele Placido ho preso alcuni dei ragazzi del primo anno, tra cui anche me, per fare, diciamo, delle figurazioni speciali, quindi in realtà non è stato proprio il mio primo film, è stato il primo set, però, che io ho frequentato. L'ultima esperienza in quanto d'attrice? Non ero attrice, oddio meno, cioè, non è che avevo fatto, non avevo la sceneggiatura, sono stata lì sul set, e poi mi hanno detto di una battuta, insomma, non avevo idea. Cioè, ma vedevi già, ti affacciavi già in qualche modo al futuro, cioè, prevedevi già quello che è stata poi la conversazione lì dentro, cioè, il tuo Evolverti, anche adesso, attrice di serie, che comunque dicevi, ho fatto un discorso molto bello, sul fatto che comunque non basta più essere protagonista di una serie per raggiungere, diciamo, la notorietà che l'immaginario dell'attrice proietta. Tu ti aspettavi questo cambio e arrivare dall'esperire quel mondo del grande sogno a questo momento qua presente in cui il cinema, specialmente in Italia, è frammentato, è non più identitario. Cioè, il percorso che hai fatto anche in quanto a percezione di quello che è stata l'evoluzione del cinema. No, ma probabilmente in quel momento, cioè, quando stavo sul set, in quei giorni, neanche avevo questo tipo di pensiero, cioè, onestamente, ero una ragazza giovane che, so, mi sembrava tutto così irraggiungibile, tutto così lontano. Non avevo ancora fatto questo genere di pensieri, forse non avevo neanche l'esperienza, la conoscenza di questo mondo per poter azzardare delle ipotesi sul futuro del cinema, no? Ok. Questa non è tutta onestà. Ok. Abbiamo altre domande? Sì, c'è una domanda molto stupida, però ci sta anche farla. È da attrice. Quale personaggio storico, anche culturale, letterario o musicale, ti piacerebbe interpretare? Se potessi avere, se avessi totale libertà di scelta? Oddio. Questa è una cosa che, vedi, chiedono sempre le interviste, bisognerebbe prepararsi un po' su questo genere di domanda. Forse mi piacerebbe fare qualcosa di veramente lontano da me, cioè, magari una roba di serial killer, una cosa del genere. Ok, tu sei una serial killer oppure... Dove io sono una serial killer, sì. Mi piacerebbe farlo, sì. Perché no? Ah, se ti dicessi Matteo Garrone, invece? Beh, Matteo Garrone sì, sicuramente. Per esempio, Matteo Garrone mi piace tantissimo da spettatrice, però non è, forse, non lo so, non mi sento che mi potrebbe mai scegliere per un film. Ok. Non so perché. Ti senti più sorrentiniano tu? Sì, forse sì. C'è sempre questo, diciamo, dualismo tra Garrone. Io adoro, cioè, ogni volta che esce un film di Garrone ci vado e tutto, però non credo che... Non lo so perché, ho questa sensazione, sai, poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, però... Sì, è un bel tema, un bel tema. Ti dovresti molto sporcare, ti dovresti molto affidare a lui, in qualche senso. Sì, no, io adoro la regia, cioè, in generale, mi piace molto affidarmi, no? Allo sguardo di un altro, incontrare un altro immaginario. È un'esperienza che vivo come qualcosa di esaltante, non mi sento limitata o oppressa. Quindi non è che mi pongo limiti, ecco, assolutamente. Ok, invece, riguardo il cinema italiano contemporaneo, in questo momento, c'è qualche regista giovane che tu guardi dicendo, pensando, ok, lui ha uno sguardo che mi piacerebbe in qualche modo seguire, uno sguardo nuovo che mi piacerebbe in qualche modo conoscere? Parli di giovani. Parlo di giovani. Non so, mi ha molto colpito il film di Julia Stakerford, Settembre. Forse, non so, mi ha trovato molto, ho trovato una grande tenerezza nel raccontare, anche in maniera delicata, le storie, anche come ha guardato le attrici protagoniste del film. Poi ho parlato con Barbara, mi ha raccontato di che Barbara Ronchi, che esperienza è stata sul set. Quindi, non so, mi è piaciuto molto il film. Quindi, ti dico lei così, ma ti potrei dire anche Bozzelli, insomma, che adesso è uscito. Però, ecco, in questo momento mi sento dire Giulia. Ok, ma c'è anche uno scarto di età. Bozzelli è uno proprio di più. Io mi ricordo il suo corto, ero in una giuria, e adesso non ricordo il titolo. Di che anno era? Non ti ricordi? L'ho fatto Amateur. Come si chiama? Amateur. L'ho fatto J'adore. Amateur, forse era. Amateur, sì. Quello tu in una stanza con i tuoi studenti. Sì, bellissimo. Bellissimo. E mi ricordo che feci, votai, proprio dissi, wow. Poi lui è abruzzese? Eh sì, di Pescara, forse, con me. Di Pescara, sì. No, vabbè, notevole, sicuramente mi piacerebbe. Ma lui in qualche modo ha, diciamo, quello di cui si parlava dentro, cioè, colui che vi ha fatto le domande parlava proprio di uno sguardo, dei registi che in qualche modo mantengono il loro sguardo, non pensando ai calcoli, non pensando agli algoritmi. Lui è uno che nell'evoluzione della sua carriera, già dai corti, ma anche atterrando nel lungometraggio, ha mantenuto una coerenza di sguardo e di ricerca abbastanza evidente. Sì, anche dai corti, se ci pensi, sì, assolutamente. Ti è piaciuto Patagonia? Mi è piaciuto, sì. Sì? Beh, sì. Ci sta. Voglio dire, credo che sia innegabile che questa persona ha qualcosa da dire e ha un suo sguardo molto identitario, preciso. Ok, c'è bisogno, secondo te, quindi, di questo sguardo in questo momento, oppure c'è bisogno di più di calcolo per il cinema e per, in qualche modo, pensare a una crescita del cinema italiano? Insomma, vabbè, come si fa? È chiaro che io, insomma, ti dico, per me, ragazzi, è ovvio che c'è bisogno di tirare fuori un'urgenza quello che hai da dire, quindi chiaramente quella è la base. Poi avere una struttura intorno che ti permette di fare anche dei discorsi, no, più, anche rispetto all'industria e tutto, può essere un'aggiunta se non è una limitazione, cioè se ti va a dare una sostanza, un supporto, però se diventa, appunto, metterti un algoritmo addosso e dire vai qua o vai là, allora, no. Ci sta. È una bella risposta, effettivamente, anche io la penso così. Ci sta. Sì, soprattutto poi all'inizio un regista deve essere libero da... Tra l'altro volevo farti questa domanda prima, ci stavo pensando, perché mi è sembrato di capire che il film di Placido avesse un set molto grande. Tu sei abituata a lavorare con set con tante persone, 50, 100, oppure in realtà più che sei abituata preferisci lavorare con set più piccoli o in set molto numerosi? Non mi fa grande differenza, devo dire la verità. Non ho... A me piace avere tanta gente intorno, cioè l'esperienza, no, di... Per me, anzi, quando siamo in tanti la mattina, quando si arriva al trucco, noi attori sbirciamo un po' l'ODG, no? E quindi sull'ODG c'è scritto esattamente tutti i nomi della troupe. Per me è esaltante pensare che ci sono, non so, 100 persone che collaborano alla stessa cosa, così come è bellissimo in realtà quando siamo in pochi e ci battiamo per fare una cosa incredibile. E quindi entrambe le situazioni mi piacciono per motivi diversi. Certo, magari per un regista, per un attore effettivamente può essere interessante entrambe le situazioni, per un regista magari soprattutto agli inizi può essere più semplice lavorare su set più ridotti. Non lo so, non lo so. Con set più piccoli comunque il regista ha un controllo, ha una responsabilità forse più piccola, forse più micro, però comunque ha una responsabilità grande. Ma anche sul set grande. Per la vaglieri Isabella Rossellini, del fatto che lei non si sarebbe mai approcciata alla regia su un set da 100 persone e ha copiato lo stile di quel regista svedese di cui parlava a vaglieri per ridurre il numero della truppa all'essenziale e lavorare in maniera molto più flessibile, snella. Però appunto sono scelte registiche per un attore, quindi mi sembra di capire non... Ma sai, se c'è un senso di professionalità va bene tutto, no? Che stiamo a fare il corto in tre o in 150 sul superset. Sì, per me quella è un po' la differenza. E non è detto che su un set grande ci sia il massimo della professione, cioè... Certo. No, no, c'è molto più dispersione magari. A meno che non è Ostlund, perché lì sarebbe grave se ci fosse dispersione in Ostlund. Va bene, ringraziamo Lucazzo per essere stato con noi. Grazie Lucazzo. Facciamo la nostra ultima domanda bonus, che Francesco non lo sapeva, ovvero in quale animale, cioè se tu, con la tua coscienza e la tua memoria, in quale animale ti piacerebbe tipo reincarnarti in una prossima vita? Wow. Mi sento un po' a belve. Eh sì, infatti questa l'abbiamo un po' presa da... Salutiamo Francesca. Salutiamo Francesca, no. Non lo so, forse un gatto. Un gatto. Sembrano abbastanza tranquilli. Ma un gatto affettuoso o un gatto che se la tira, diciamo? Un gatto che se la tira, dai. Lui, quel ragazzo qui, c'è un gatto che si chiama Vincenzo. Sì, ma lui è un gatto affettuoso. Ma io ho un cane che è un gatto, in realtà, che se la tira tantissimo. Anche il mio gatto se la tira tantissimo. Eh, ma il mio è un cane, dovrebbe essere più... Amorevole, coccoroso. Dove essere più amorevole, invece ci snobba tantissimo. E noi stiamo lì che vogliamo le sue attenzioni, ma in realtà... Ciao Jupiter, un grande saluto. Salutiamo Jupiter. Ci sta di sicuro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, lo grazie. Grazie.